Da qualche anno a questa parte si è assistito a un crescente interesse e a speculazioni sui potenziali benefici delle banane per la salute, con particolare riguardo alla loro presunta capacità di combattere il cancro. Ma c'è qualcosa di vero in queste affermazioni. Scopriamo insieme se le banane possono davvero combattere il cancro. Le banane sono un frutto immancabile in molte diete di tutto il mondo, note per il loro gusto delizioso e la loro forma conveniente. Oltre al loro appil culinario, le banane sono anche ricche di nutrienti essenziali, quali vitamine, minerali e fibre alimentari. Tra questi nutrienti ci sono gli antiossidanti, come la vitamina C e i flavonoidi, considerati capaci di proteggere le cellule dai danni e di ridurre il rischio di malattie croniche, tra cui il cancro. Ad ogni modo, i benefici nutrizionali delle banane vanno oltre le loro note caratteristiche, soprattutto quando maturano. Quando le banane maturano, si formano le classiche macchie, scure sulla buccia che alla fine diventano marroni. Alcuni evitano di acquistare le banane in questa fase perché sono molto più dolci e la consistenza molliccia può risultare sgradevole. Ciò che molte persone non sanno è che più macchie scure ha una banana, più benefici apporta all'organismo e in particolare al sistema immunitario. Una recente ricerca condotta in Giappone ha dimostrato che le banane mature contengono una citochina conosciuta come fattore di necrosi tumorale, TNF. Questa sostanza proviene da alcune cellule del sistema immunitario e può influenzare altre cellule dell'organismo. È proprio questo che conferisce alle banane mature la capacità di combattere il cancro. Secondo lo studio, l'effetto è talmente forte da riuscire a combattere i tumori e la crescita cellulare anomala nell'organismo. Questa sostanza presenta una funzione simile a quella del lentinano, un immunostimolante chimico che viene somministrato per via endovenosa come agente antitumorale. Questo effetto incrementa man mano che la banana matura, il che significa che più il frutto è maturo, maggiore è il suo effetto anticancro.